Oh, stanto no, ma te lo difendi? Sei tutto bluetooth, senza fraga e fummo! E boh, non si accende, depedessi colpa del vento! Ma quale il vento? Se si duba, gratico, che non usi i prodotti giusti, devi usare buona abbraccia! Ma perché questa non è buona? Ma beh, guarda, zio Ettore, morca cipolla! Buona abbraccia permette di avere una abbraccia in solo i 10 minuti, evitando la lunga trafila della preparazione con il carbone in legno! Buona abbraccia in 10 minuti per cuocere i gusti di bolisi! Ma con buona abbraccia si cuocce bene! Certo, buona abbraccia! E non secca la carne, la mantiene morbida e quando il grasso cola non fa la fiammata! E ma di cosa è fatto? È tutto naturale, realizzato dal tutolo di mais, non sporca! È un prodotto ecologico italiano, non tossico, ma senza sapete! A fare cosa? A mettere questa messa, gandago eus! E io, guarda!